Sono ormai praticamente all'ordine del giorno le proteste dei pendolari liguri per i ritardi cronici dei treni regionali. Gli ultimi episodi hanno riguardato un problema ad un treno sulla linea della riviera di Ponente che ha provocato ripercussioni gravi anche a Levante, tra Genova e Sestri Levante. Si è trattato, in base a quanto dichiarato da Trenitalia, di un'anomalia ad un treno regionale tra Andorra e Albenga, nel tratto ancora binario unico con conseguenti ritardi di circa mezz'ora. Il susseguirsi di ritardi dovuti ad anomalie su una tratta che si ripercuotono poi con effetto domino su tutta la regione non è più accettabile, ha detto l'assessore regionale ai trasporti Gianni Barrino. Chiederò formalmente un'azione risolutiva da parte di RFI e Trenitalia perché non si ripetano più episodi di questo tipo che hanno ricadute insostenibili su tutto il sistema ferroviario regionale e quindi disagi incalcolabili per pendolari, studenti e turisti. Regione Liguria, conclude l'assessore, paga il servizio con puntualità e pertanto ci aspettiamo che con la stessa puntualità avvenga la gestione del servizio stesso. Pendolari e studenti sono ora esasperati per un servizio che non appare più all'altezza delle esigenze dell'utenza.